Vediamo allora un attimo di entrare un po' nel vivo della questione di questa sera. Chi era Rajai? Perché questo personaggio, che è un personaggio che tutto sommato nel grosso della storia di questo paese non è citato molto spesso, proprio perché occupa uno spazio minimo, come vedremo, nella storia. Lui era della classe 33, quindi all'epoca, nel 1981, ha poco più che quarantenne, è nato a Gasvina, una famiglia molto povera, molto umile, si trasferisce a terra molto giovani, si arriva in aviazione, ovviamente siamo al tempo dello Shah, riesce a studiare poi all'università, diventa insegnante di matematica. Lui è un oppositore dello Shah, comincia a politicizzarsi abbastanza rapidamente negli anni successivi appunto al servizio militare, prima è con i fedajan del popolo, cioè è una formazione diciamo comunque di sinistra, poi si avvicina ai Mogedin del popolo, Mogedin e Halk, che però poi a un certo punto lascia perché diciamo troppo di sinistra, potremmo metterla così semplicemente, e aderisce in modo, come dire, totale alla linea appunto portata avanti da Khomeini, che in quel momento è ancora in esilio. Lui è arrestato molte volte, il periodo di detenzione più lungo è quello proprio nell'imminenza della rivoluzione, sconta quattro anni in carcere, dal 74 al 78. Sulla sua figura comunque ci sono, come dire, anche molti dubbi, c'è un passato nebuloso, allora è un figlio del popolo, come dire, una madine già d'antelitteram, uno che ha scalato i vertici della Repubblica Islamica, partendo dal basso, cioè il figlio del popolo che arriva a essere presidente, arriva nella cosiddetta stanza dei bottoni, oppure è un killer, perché su di lui sono dette molte cose, cioè che in realtà lui facesse parte degli OJAT-E, che è una setta, di questo parleremo, faremo una puntata dedicata soltanto agli OJAT-E, qui il Cam Ran potrebbe dirci molte cose interessanti, perché so che è un tema che a lui sta a cuore, che è un gruppo religioso sciita, particolarmente radicale, attualmente ufficialmente fuori legge, che all'epoca nacque in reazione alla nascita del fenomeno, alla religione Ba'i, quindi parliamo del XIX secolo, e lo stesso Rajai, da molti, secondo molti, era un OJAT-E e avrebbe anche ucciso De Ba'i, comunque si sarebbe reso protagonista di molti episodi di violenza politica. La sua ascesa politica, ad ogni modo, è legata alla sua totale adesione, come dire, alla parte di Khomeini, non è che lui fino ad allora avesse avuto dei ruoli amministrativi, o politici, o ideologici, o avesse brillato per motivi particolari. Era essenzialmente un militante, un militante molto, molto prezioso, perché evidentemente era anche uno capace di fare il gioco sporco. Io la metto così, so che ci sono altri. Aiuto, che succede? Daniela? Nel senso che sto andando, è troppo complicato? Ditemi se non va bene come modo o come ritmo del racconto, perché non vorrei che fosse troppo faticoso per voi seguire. Comunque rimane un presidente meno noto. Lui, qui lo vediamo con Khomeini e con suo figlio Hamad, lui viene eletto nel primo Parlamento della Repubblica Islamica, cioè quel Parlamento che viene eletto nel marzo del 1980. È il primo mageles, il primo Parlamento della Rivoluzione, il primo Parlamento Repubblicano. Ah, non mi senti? Adesso si sente? Spero che questa sera l'audio non mi dia altri problemi, che ho incominciato male. Vediamo se è toccato qualcosa, forse io qui. No, non credo, però, francamente. Vabbè. Lui, inizialmente poi, è nominato primo ministro dell'educazione. Sappiamo che, allora, abbiamo già detto, il governo del presidente deve ricevere la fiducia su tutti i ministri. E un primo scontro abbastanza feroce c'è appunto tra Banisad e il Parlamento, proprio sulla lista dei ministri. Innanzitutto, lui, Banisad, non avrebbe mai voluto Rajai, né come ministro, né come primo ministro, figuriamoci. Ma alla fine, dopo una lunghissima trattativa, pensate che si vota a gennaio per il presidente dell'Ottanta, a marzo per il Parlamento, alla fine Rajai diventa primo ministro in estate dell'Ottanta. Quindi, una cosa lunghissima, un tira e mola peggio che per il primo governo Conte, insomma, immaginiamoci. Una veramente, una sfida continua. E alla fine inizia un rapporto, da un punto di vista politico e umano, burrascoso, perché sono due personaggi completamente diversi. Come dicevo, la scorsa volta si scontrano due principi. Il Thakassos, l'esperienza contro Maktabi, c'è la fedeltà alla linea politica. Ovviamente l'esperienza dovrebbe essere Banisad e la fedeltà alla linea politica è Rajai. Ad ogni modo, lui diventa primo ministro. Si scontrano su tante cose. Per esempio, da un punto di vista politico-culturale, Rajai è un convinto sostenitore della cosiddetta rivoluzione culturale. Cioè, lui, nel giugno Ottanta, quindi quando ancora c'è Banisad, lui si schiera per la chiusura delle università, che rimarranno chiuse fino, infatti, per settembre Ottantadue, alcune addirittura apriranno a gennaio dell'Ottantatré. Cioè, una chiusura totale delle università, ufficialmente per una questione, diciamo, di rivoluzione culturale, perché andrebbero cambiati i testi, e anche le teste, e anche per un motivo, se vogliamo, meno ideologico e molto più pratico. Secondo voi perché? Questo lo abbutto lì un attimo. Vediamo chi intuisce e chi pensa perché decidono di chiudere le università in quel momento. Ad ogni modo, questo è già passato, ma è ancora in corso, cioè quando succedono questi fatti, le università sono chiuse oramai da un anno, in quell'estate terribile dell'Ottantuno, appunto, è scappato Banisadr, si arriva a votare nel luglio, tra l'altro ci sono stati due attentati gravissimi, già in quel giugno, perché, come vedremo dopo, in un attentato è stato ferito lo stesso Khamenei, nell'altro, il più grave, quello dell'Aftetir, cioè che non erano controllabili esattamente, Daniera, cioè perché le università erano possibili focolai di rivolta, così come l'erano stati per lo Shah. C'è un attentato che è appunto, se non sbaglio, il 28-29 di giugno, cioè il 7 di tir, nell'Aftetir, nel calendario persiano, in cui un attentato di Namitardo praticamente decapita i vertici del PRI, del partito di Khamenei, perché vengono uccisi più di 70 funzionari, tra questi lo stesso Beishti, la Iatola Beishti, che era il fondatore, per esempio, dell'ideologo di questo partito, e quindi di colpo anche gli stessi, come dire, gli stessi personaggi, la stessa nomenclatura di quel partito è ridotta nella scelta dei personaggi. Si va a votare, lui vince con una maggioranza schiacciante, qui adesso sono oltre l'87% dei voti, siamo a fine luglio, quindi da poco Banisadre è scappato, Rajai è il nuovo presidente, ha eletto il nuovo presidente, nomina, questa sarà la prima volta che nomina Baonar, primo ministro, che è un mullah, quindi lo vedete, ma nemmeno il tempo di insediarsi quasi, che i giorni effettivi di presidenza per lui sono inferiore al mese, il 30 agosto un nuovo attentato, sempre dei Mogendini del popolo, come i due precedenti citati, uccide sia lui sia il primo ministro Baonar. Quindi, come dire, tutto da rifare, nel senso che questo dà anche però la misura del clima che si vive in quell'estate del 1981, che è un'estate terrificante. Tenete sempre presente che questa è la situazione interna, la guerra è in corso contro l'Iraq, la crisi degli ostaggi è finita, è finita a gennaio, ma il paese è isolato a livello internazionale, perché appunto con questi precedenti sta subendo già sanzioni, e in più politicamente tutti lo vedono come un potenziale nemico, e quindi questa è la situazione in cui matura anche quest'altro passaggio. Quindi Rajai è appena cominciato, è già finito, come cantava quello, ma nel senso con un po' di sarcasmo, un po' magra, però potremmo dire così. Per questo anche che lui è un personaggio tutto sommato che è poi stato dimenticato. Va tenuto presente perché è l'ultimo, in questa fase, l'ultimo presidente, potremmo dire laico, cioè che non veste il turbante. Perché? Perché subito dopo si fanno nuove elezioni, tra l'altro proprio nella paura che l'affluenza sia ancora minore, si viene abbassata l'età minima per votare. Già prima si vota a 16 anni, viene abbassata a 15. Khamenei, che era già al capo del Consiglio Supremo di Difesa, viene letto addirittura con il 95% dei voti, addirittura Mahdavikhani, che era un altro candidato pochi giorni prima del voto, si ritira il suo favore, cosa che è un fenomeno che capita abbastanza spesso nella politica iraniana. E quindi Khamenei è il nuovo presidente. Sì, che era una quindicina di voti giorni è durato, sì, pochissimo, meno di Papa Luciani, insomma, veramente, durò veramente pochissimi giorni. E tutto sommato è stata anche abbastanza, è stata un'esperienza abbastanza dimenticata. Allora ci dice Sayed, mia madre era presa di una scuola femminile a Teherano, una delle scuole più famose, è stata convocata dal ministro della strumentazione, e lui guardando negli occhi di mia madre dice le soli parole, la nostra Repubblica non ha bisogno delle prostitute come lei, dopo l'anno di lavoro. Ecco, questo per capire anche il tipo di personaggio di cui stiamo parlando. Cioè, questa testimonianza, ringrazio Sayed per essere raccontata, è assolutamente in linea con una certa, un certo racconto che si fa, insomma, dell'uomo, del personaggio, che ecco, più che essere ricordato come un insegnante, francamente, è ricordato per altre azioni nella vita. Quindi lui comunque viene ucciso e appunto sparisce dalla scena politica, anche al suo brevissimo ministro della presidenza. Allora, chi è Khamenei? Perché questo è un personaggio di cui dovremo parlare anche nei prossimi giorni, perché tuttora è un personaggio importantissimo, forse il più importante, della scena politica iraniana. Lui nasce a Mashhad nel 1939, sebbene Mashhad, ancora sanno sapere che comunque Khamenei invece ha origini anche a zero, quindi è tutta una parte del grande rimescolamento poi iraniano in cui le etnie si sono assolutamente mescolate, spesso dislocate in posti diversi del paese. Poi studiano i seminari di Mashhad e Kham, l'altro a Kham assiste anche alle elezioni sia di Buru Gerdi, sì che era il grande Iatollah precedente a Khamenei, sia a Khamenei stesso, in quegli anni in cui ancora Khamenei è in patria. partecipa alla rivoluzione e poi entra nella cerchia di Khamenei tramite Rav St. Ghani, che è un altro dei grandi personaggi di cui avremo modo di parlare. Ma ci tengo a fare qualche appunto sulla figura, sul personaggio di... Lui è vero che si è formato, abbiamo detto nelle scuole, nei seminari religiosi di Mashhad e di Kham, studi religiosi e anche però delle influenze importanti, per esempio quella di Shariati, quella di Al-Hamad, cioè appunto tutta la storia del Gab Zadeghì, dell'intossicazione dell'Occidente. Ma in questo... Il Khamenei ci dice è parente di mio zio defunto Mirosemani e papà di Mirosem. Ah, beh sì, tanto sappiamo appunto Mirosem Musavi, che è un personaggio che citeremo anche stasera, è cugino di Khamenei. Ma qua arriveremo perché poi la politica iraniana è tutto un fare anche di parentele, di legami anche molto stretti. Quindi lui oltre però a questa formazione prettamente religiosa ne ha una più politica, più decisamente anti-imperialista. Lui segnato, chi lo conosce dall'esperienza del colpo di stato del 53, più volte ne parla, più volte lo cita, ed è un uomo anche di letture, di letture internazionali. Lui per esempio ha capitato più volte di citare Steinbeck, Furore, di aver letto la Divina Commedia di Dante, però c'è la capanna dell'Ozio Tom, ma anche lui sempre in funzione anti-imperialista, anti-americana, se vogliamo, ma lui soprattutto il suo libro preferito, quello che lui ama più di tutti, lo mette anche sul sito di Khamenei, è I miserabili di Vittorio Hugo. Proseguendo, ecco vediamo i primi incarichi. Lui appunto, abbiamo detto che entra nella cerchia di Comenì, non appena Comenì ritorna in patria, prima è nominato vice ministro della difesa, poi Comenì lo mette in un posto importante che è quello dell'imam della preghiera del venerdì a Teheran, cioè che è quello che tiene i sermoni nel venerdì della preghiera, lui appunto è una giunta dell'Islam, poi diventa Ayatollah più tardi, ma ha comunque un ruolo religioso, c'è là un incarico, però molto spesso in tutto questo iter noi vedremo come l'aspetto politico prevalga sempre su quello religioso e qui ci porterà a fare delle considerazioni dopo. Dopo viene inviato al fronte come rappresentante della commissione di difesa del Parlamento, quindi trascorre anche del tempo in prima linea, qui infatti in questa foto più in basso lo vediamo che è con dei soldati al fronte, una guerra con l'Iraq. Qui c'è una cosa a cui vi devo far vedere, questa è la questione degli ostaggi, il video con Limbert, allora qui lui in questo momento appunto è presidente della commissione di difesa del Parlamento, in questo ruolo lui va a un certo punto a visitare nell'80 siamo gli ostaggi americani che sono ancora tenuti in ostaggio, era questo di cui parlavo, il 27 giugno 1981, facendo un passo indietro, Khamenei stesso subisce un grave attentato sempre da Mogendin del popolo, infatti lui da allora perde, qui c'è un refuso mi sono accorto adesso, l'uso del braccio destro, il giorno successivo invece andrà molto peggio a molti altri del partito repubblicano islamico perché moriranno più di 70 funzionari in un altro attentato sempre dei Mogendin, tra l'altro nella propaganda del governo i morti erano 72 esattamente come 72 di Karbala volendo significare insomma una simbologia religiosa in realtà non si sa bene quanti fossero però insomma furono tantissimi perché anche lì una bomba veramente fece a pezzi gli uffici la sede centrale del partito. Allora proseguendo ecco i nuovi volti del potere a questo punto siamo nella fine fine dell'estate 1981 Khomeini scusate Khomeini nomina al posto di Khomeini che è appena diventato presidente al suo posto al vertice del Consiglio Supremo di Difesa che ricordo che in quello è un ruolo importante perché siamo in guerra questo è il momento della guerra con l'Iraq nel posto di Khomeini Khomeini nomina Rafsanjani che è un altro che è un altro personaggio di cui parleremo molto a lungo è uno dei nuovi volti del potere allora ecco qua i nuovi volti del potere sono appunto il presidente Khomeini presidente del Consiglio Supremo di Difesa Rassanjani alla fine Khomeini riesce dopo due diversi tentativi prima Madhavi Kani e poi Velayati che sono bocciati dal Parlamento alla fine ottiene fiducia dal Parlamento su un altro personaggio che è Mirosein Moussavik che tra l'altro come stavamo dicendo prima è anche suo cugino ed è in un certo senso in questo caso lo potremmo definire a ragione un rappresentante dell'ala sinistra del PRI perché è uno di quelli che si fa portatore portavoce di un'esigenza di un di un come dire di un intervento dello Stato nell'economia soprattutto la presidenza Khomeini per cosa si contraddistingue perché insomma Khomeini viene eletto appunto nel settembre dell'81 e succedono molte cose con lui è impossibile adesso ripercorre la storia nei suoi dettagli ma in questo momento l'Iran passa la controoffensiva nell'82 sappiamo che c'è la liberazione di Khoramshar cioè quindi la Stalingrada iraniana quindi il territorio viene liberato quasi del tutto dalle forze di occupazione irachene la guerra continua si decide di continuare la guerra e si sposterà in territorio iracheno proprio perché per una serie di fattori sicuramente tra questi c'è la volontà di chiudere i conti con Saddam Hussein anche quella si comincia a dire di esportare la rivoluzione quindi di far sì che di sperare che gli sciiti iracheni che vivono nel sud nei luoghi sagri per gli sciiti quindi Najaf Bassora Bassora non è un luogo sagro ma comunque San del Sud e Karbala siano liberati e quindi in un certo senso si possa ripetere l'esperimento della Repubblica Islamia anche in Iraq non sarà così da un punto di vista interno il messaggio alla linea di Caminier è molto duro chiaro nel suo discorso di insediamento lui parla appunto della necessità di lottare e di sradicare degli azionisti liberati la sinistra sostenuta dagli USA Moussa mantiene una politica economica segnata dall'intervento deciso dello Stato e qui è un discorso interessante perché questi sono gli anni in cui l'Iran e con esso soprattutto poi il partito repubblicano islamico che in quel momento governa e fino all'87 sarà alla guida del paese e si tratta di come dire di stabilire un rapporto tra bazar e masse cioè tra quali interessi privilegiati quelli del bazar e quindi della proprietà o quelli dell'esigenza di un paese che comunque esce da anni economicamente molto molto difficili in questo senso l'intervento il ruolo di Moussa sarà un ruolo decisamente potremmo dire dell'ala sinistra del partito ci sarà una spaccatura all'interno di quella stessa fazione per cui poi ci saranno una serie di scontri anche molto molto grandi che avranno un esito diverso ma ne parleremo soprattutto la prossima domenica quando parleremo dell'epoca Rav San Janin andiamo avanti ecco un passaggio drammatico e quanto mai significativo anche visti i giorni che stiamo vivendo visto il primo maggio è la liquidazione del Tudè il partito comunista che fino a questo momento era ancora un partito legale cioè esisteva era tollerato aveva sostenuto di fatto il il Comenì in tutto quando anche tutti gli altri partiti il fronte nazionale le prime moggedine tutte le altre formazioni erano erano andate via erano scappate erano comunque sono messe dalla parte dell'opposizione hanno scelto il confronto anche armato con la Repubblica Sanamica e il Tudè invece rimane come dire fedele a quel patto iniziale in modo se vogliamo anche abbastanza contraddittorio anche abbastanza curioso ma non unico se pensiamo per esempio la storia in altri paesi voi sapete per esempio l'Argentina in Argentina il partito comunista argentino nonostante la dittatura di Viola Videle e Massera rimase a un certo punto in una posizione tutto sommato non di sconto nei confronti della dittatura a differenza per esempio dei peronisti che invece erano organizzati anche in formazione di guerriglia e questo si diceva sempre per un legame molto forte almeno in Argentina del partito comunista comunista che ha bisogno del grano dell'Argentina qui ancora una volta i legami come dire i fatti internazionali hanno un peso determinante come in un certo punto decide di liquidare il partito comunista perché non ne ha più bisogno fino ad allora erano strumentali ma in quel momento non servivano più per cui li mettono fuori legge vengono arrestati questo purtroppo va detto anche grazie a un intrigo internazionale in quel momento gli Stati Uniti stanno cercando di nuovo contatto con l'Iran e vedremo tra un po' anche cosa faranno via Gran Bretagna riceveranno una lista da parte di un agente segreto sovietico che decide di passare al nemico quindi ha tutto un elenco anche di scritti al partito comunista iraniano iscritti non ufficiali iscritti comunque erano clandestinamente anche all'interno stesso dell'esercito iraniano e questo file con tantissimi migliaia di iscritti viene dato ad un certo punto al governo iraniano che decide appunto di passarli per le armi decide di arrestarli in alcuni casi torturarli o comunque condannarli a penitenti molto lunghe proprio nei giorni intorno al primo maggio c'è questo qui è spettacolo orribile potremmo dire in televisione in cui tutti i leader del partito comunista iraniano questo è una delle figure principali Nureddin e Chianuri vanno in televisione e abbiurano di fatto parlano della loro esperienza esistenziale politica come di un fallimento come di un tradimento dei veri ideali che sono quelli islamici e qui per esempio Camerano dice complotto dell'intelligence dei bastardi inglesi ma infatti questo è un fatto storico oggi si sa non è una riceria e vengono molti di loro condannati ugualmente appena lunghissimo chianuri passerà moltissimi anni in carcere morirà agli arresti domiciliari tra l'altro voglio dire lui è significativo che a un certo punto in carcere Evin passerà un po' come il Galileo iraniano cioè nel senso che una specie di eppur si muove nel senso di essere stato costretto sotto tortura ad abbiurare quello in cui invece lui credeva facciamo presente che si tratta di personaggi che hanno conosciuto l'esilio sotto lo Shah che hanno andato in Russia in Germania Est chianuria anche in Italia cioè hanno vissuto una vita di lotta politica dedicata al loro paese e ai loro ideali che vengono in questo come dire divorati dalla rivoluzione a cui loro stessi hanno partecipato mi sembrava un passaggio doveroso questo da ricordare che molto spesso è abbastanza dimenticato per il resto nell'84 comincia la cosiddetta guerra delle città nel senso che Saddam Hussein decide di attaccare con bombardamenti e missili le grandi città iraniane l'Iran risponde allo stesso modo nell'85 c'è di nuovo però una controoffensiva cioè l'Iraq fa la prima grande offensiva dal settembre dell'80 quindi le sorti della guerra sono tutt'altro che nette tutt'altro che chiare tutt'altro che positive passato quel momento anche di euforia della Repubblica Islamia che credeva di poter liquidare Saddam Hussein e di avere la vittoria a un passo in realtà si ritorna a una situazione di stallo in cui la guerra poi per lunghi mesi magari si ferma soprattutto quelli invernali in attesa delle controoffensive ed è destinato ancora a durare un po' il 16 agosto sono passati 4 anni del mandato faccio notare che è il primo presidente che era arrivato a mandato una scadenza naturale si rivota viene rieletto con l'85% dei voti ma in questo caso votano 2 milioni di persone in meno rispetto a 4 anni prima questo comincia già a segnare a vedere una certa disaffezione una cosa di cui abbiamo già parlato Khomeini questo è un passaggio sicuramente interessante perché Khamenei vuole alla fine riesce a ottenere la conferma di Moussavik come primo ministro nonostante Khomeini invece non sia d'accordo in quel passaggio lui non vorrebbe non vorrebbe lui sappiamo che aveva un rapporto migliore con altri personaggi politici dell'epoca ma nonostante questo lui riesce a tenere di nuovo che sia Moussavik il primo ministro nell'86 c'è un passaggio importante c'è quello del caso Irangate perché in questa fase non sto entrando nel dettaglio ma sappiamo che l'Iran ha cominciato a combattere una guerra simmetrica intervenendo in Libano dove ha formato ha contribuito alla nascita dell'Esbollah e dove ci sono degli ostaggi occidentali gli Stati Uniti per liberare questi ostaggi in mano a l'Esbollah vendono armi all'Iran quindi violando la stessa legge che il congresso americano aveva votato con il ricavato di questi soldi che poi venivano venduti tramite Israele all'Iran gli Stati Uniti finanziavano i contrassi in Nicaragua c'è la guerriglia antisandinista famoso uno scandalo enorme che porterà poi a tutta una serie di ripercussioni Reagan se la caverà non subirà l'impeachment all'interno dell'Iran invece ci sarà un passaggio importante perché quelli che all'interno dell'establishment iraniano avevano il Consiglio di civilezza dell'ONU approva la risoluzione 598 che chiede di fatto la cessazione dell'ossilità e si ritorna ai confini prebellici l'Iraq sarebbe disposto ad accettarli l'Iran ancora no dice di no e vedremo cosa succede nel frattempo andiamo avanti siamo andando abbastanza velocemente allora qui c'è un passaggio importante drammatico di tutta la guerra di cui abbiamo accennato anche nella diretta due giorni fa sul Golfo Persico in questo momento in questa fase già dai mesi precedenti la guerra si sposta nel Golfo Persico dove tutte le grandi paesi occidentali ma non solo anche l'Unione Sovietica sono preoccupati dal fatto che la guerra possa danneggiare l'enorme flusso di navi di petroliere soprattutto che da lì portano il petrolio in tutto il mondo e quindi comincia un lavoro un'operazione di scorta delle navi anche l'Italia partecipa tra grandi polemiche di fatto però che cosa succede che nonostante i pericoli vengano da entrambi gli attori in gioco cioè sia da Iran sia da Iraq di fatto ci si comporta come se l'Iran fosse l'unico aggressore quindi quando persino una nave americana è colpita da una nave da colpi partiti dall'Iraq da forze irachene non c'è nessuna reazione mentre momenti di tensione e anche di scontro tra Pasdaran tra forze iraniane e americane ci sono finché avviene un episodio terribile gravissimo il 3 luglio del 1988 c'è un un aereo civile l'Iran Air che è colpito da un missile lanciato dalla nave da guerra Vincen muoiono 290 passeggeri e persone da burro la comunità internazionale non interviene anzi dicono che si giustificano dicendo che era l'aereo che volava fuori rotta ci sono anche motivi che sia stato un atto deliberato per intimidire definitivamente l'Iran che a questo punto è isolato isolato non solo dal punto di vista internazionale ma anche all'interno del mondo lo stesso mondo islamico mesi prima c'era stata la strage della Mecca quando moltissimi pellegrini iraniani erano morti nella calca provocata dalla polizia saudita e nessun paese si schiera con l'Iran ma anzi vengono come dire vengono viene accusato l'Iran di aver fomentato questi scontri a che il 20 luglio esattamente un anno dopo la risoluzione del 598 l'Iran accetta la fine della guerra è la famosa coppa di veleno che Khomeini decide di bere in questa accettazione in questa decisione abbiamo saputo anche leggendo il libro di Rosario Milano che probabilmente l'Italia attraverso l'allora ministro degli esteri Andreotti ebbe un ruolo non marginale nel convincere nel far accettare all'Iran l'unica via d'uscita possibile l'Iran a quel punto accetta perché è un paese che è distanguato dalla guerra prospettive di vittoria non ce ne sono e soprattutto si rende conto che in quel momento contro non ha soltanto l'Iraq ma di fatto gli Stati Uniti e che quindi sarebbe una lotta impari assolutamente impari l'anno inizia con una lettera di Khomeini a Gorbachev lettera che trovare il testo integrale su di Rus quindi in italiano ovviamente è una lettera interessante alcuni dicono che sia una lettera profetica perché lui di fatto dice a Gorbachev convertiti perché il comunismo oramai è morto tra poco il tuo sistema imploderà e questo è vero è questione di mesi Gorbachev non si convertirà mai all'Islam ma la fine del comunismo oramai è imminente forse non bisognava essere dei profeti per pervederlo ma di fatto lui lo fa il 14 succede invece un'altra cosa che resterà famosissima cioè la famosa che nemmeno non ha fatto in realtà ma tecnicamente era un altro tipo di dichiarazione in cui Khomeini invita tutti i musulmani a uccidere lo scrittore angolindiano Salman Rushdie che era colpevole a suo modo di pubblicare un romanzo blasfemo i famosi versetti satanici poi in realtà blasfemo non è affatto ma allora in qualche modo molti si chiedono ma perché questo a pochi mesi dalla fine perché poi morirà di lì a pochi mesi Khomeini si è uscì con un atto talmente grave che poi sconvolse un po' tutto perché fu veramente un disastro morirono delle persone traduttori di diversi paesi anche quello italiano venne accoltellato probabilmente in quella fase Khomeini sentiva che dopo la fine della guerra con l'Iraq stava perdendo lui e con lui la Repubblica Islamica iraniana una presa la presa sul mondo islamico o meglio scusate sul mondo islamico sull'estremismo sull'islam politico e inizialmente quell'autore che era addirittura stato lodato ha ricevuto un premio dall'Iran rivoluzionario in quanto riconosciuto come un autore uno scrittore antiimperialista e divenne venne messo al bando addirittura a condannare a morte tra l'altro condanna che non è stata ritirata che ufficialmente c'è ancora quindi insomma ecco questo è un passaggio molto brutto molto drammatico successivamente cosa accade Khomeini è malato ha un cancro allo stomaco ma c'è un passaggio fondamentale perché lui esautora Montazeri che era il suo erede designato negli uffici iraniani c'era un ritratto di Khomeini e di Montazeri che era uno degli iatollah il 29 aprile Khomeini poi dopo lui nomina prima 25 membri per una diciamo una sorta di come dire di bicamerale qui non c'è bicamerale perché è solo una camera di un'assemblea che deve rivedere la costituzione e il 29 aprile viene stabilita una cosa fondamentale che cioè non bisogna essere margare per diventare guida cioè nella costituzione c'era scritto che il ruolo della guida della rivoluzione doveva essere affidato a un esperto religioso che fosse che fosse però margiat aglite che vuol dire fonte di imitazione che ci avesse fatto anche una tesi scritta e che appunto ci fossero dei fedeli che lo riconoscevano come fonte di imitazione se fossero rimasti quelle quei punti se fosse rimasto quelle norme Khomeini non sarebbe potuto diventare guida perché lui non era margiat e quindi non sarebbe diventato la storia avrebbe avuto un altro corso probabilmente avrebbero anche avuto difficoltà a individuare l'assemblea degli esperti lo avrebbe dovuto farlo un successore di Khomeini perché dopo la fine politica di Montazzeri non c'erano altre figure altrettanto importanti allora che fanno cambiano la norma prima che Khomeini muoia e Khomeini muore il 3 giugno e c'è questo passaggio io vi faccio e quindi Khomeini è guida a tutti gli effetti quindi prima è diventato poi si è fatta la riforma costituzionale perché era ancora vivo Khomeini quando di fatto si stava stabilendo questo passaggio a un certo punto quindi accade che lui diventa la nuova guida Rassanjanin il 32 viene eletto presidente della Repubblica con il 94,5% dei voti